Buongiorno Deido, mi perdonerete se in questi giorni non sono molto attivo con questo podcast ma dal mercato non è che arrivino grosse notizie, in questo momento siamo abbastanza fermi sarà il caldo, sarà l'estate, la gente è un pochino in pausa in questo momento insomma non arrivano grosse novità e quindi c'è anche fare puntate dove non si parla di niente un po' mi dispiace, non ho tanta voglia di investire energie in roba che poi è poco interessante e vi devo dire la verità, manco la puntata di oggi è super interessante però ho recuperato qualcosa che riguarda una vicenda, una saga che abbiamo seguito negli ultimi anni di questo podcast che è quella di Apple contro Epic Games, sapete i produttori di Fortnite e con le modifiche dovute di Apple per il DMA adesso Epic può pubblicare il suo store ma ci sono delle chicche, delle frizzantezze varie che Apple ha voluto imporre per bloccare questa produzione quindi vi faccio un aggiornamento su questa vicenda qua e poi ho trovato una cosa piuttosto croccante invece che riguarda l'Italia e che vi voglio sottoporre, poi mi direte un po' che cosa ne pensate ma aspetta prima di tuffarsi nelle news in questi ultimi secondi di intro mi voglio liberare di un pensiero che ha circolato nella mia mente in questi ultimi giorni, ve lo dono a voi così magari me la libero io è un po' un quesito, è una domanda la causa scatenante di questa mia domanda è un hackathon che abbiamo fatto in Sparfabric questo sabato in cui abbiamo pasticciato un po' con prodotti del mondo AI quindi con vari LLM ma anche altri servizi come per esempio quello di Eleven Labs che avevamo citato, se vi ricordate in una scorsa puntata quando abbiamo parlato di Rabbit R1 Eleven Labs è un servizio che fa text to speech e speech to speech ricreando praticamente in maniera quasi perfetta la voce di una persona con anche tutte le sue pause, le sue inflessioni, insomma è abbastanza credibile insomma il tarlo che ho io che voglio passare a voi è questo visto che già con gli strumenti che abbiamo adesso possiamo di fatto ricreare una rappresentazione digitale di una persona con la sua voce e anche dando in pasto vari suoi scritti cercare anche di ricreare una certa personalità ecco lo fareste con qualcuno che è morto? cioè una persona a cui volevate bene, un affetto, un parente stretto, un caro amico insomma potendo farlo lo fareste e se aveste questa rappresentazione digitale già adesso di una persona che oggi è viva quando poi questa persona non ci sarà più continuereste a utilizzarlo cercando quasi di sostituire la persona scomparsa con una sua versione digitale e come vi comportereste, come vi rapportereste con questo bot, con questo software e poi questo porrebbe delle nuove domande etiche alla nostra società insomma non so io mi sono un po' interrogato su questo non ho una risposta in realtà cioè io effettivamente non so che cosa farei in quella situazione non so già adesso sto iniziando a pensare che siccome la cosa è possibile è assolutamente possibile non so se effettivamente è una strada che percorrerei o da cui cercherei in tutti i modi di tenermi alla larga però trovo che questa sia una domanda molto interessante di cui spero di essermi liberato in questo momento dandola a voi e ora invece vi do qualche news un pochino più leggerina E quindi eccoci qui di nuovo a parlare di Apple contro Epic Games adesso non sto a raccontarvi di nuovo tutta la vicenda ma se cercate Apple Epic insomma nel mio podcast trovate sicuramente puntati in cui ne abbiamo parlato per stringere moltissimo Epic Games produce un videogioco che si chiama Fortnite che è estremamente popolare esiste anche una versione mobile di Fortnite ma Apple ha sempre vietato la pubblicazione di questo videogioco sull'App Store perché Epic vuole che gli acquisti in game passino dal proprio circuito di pagamenti e dal proprio store e non da quello di Apple che invece si prende una fetta delle cose insomma questa a grandi linee è la motivazione per cui Fortnite non è mai stato presente su App Store poi però sapete che è arrivata l'Unione Europea con il DMA che ha costretto Apple a rivedere le proprie policy addirittura a permettere la pubblicazione di App Store di terze parti e quindi naturalmente Epic si è fregata le mani ha creato un suo App Store e ha mandato in approvazione proprio a Apple sia l'App Store proprietario di Epic che poi anche Fortnite per la pubblicazione e quindi adesso siamo al momento in cui Apple deve fare la review delle submission dell'App Store di Epic Games e di Fortnite per così poi dare il via libera alla sua pubblicazione e qui arriva la parte frizzante a quanto pare il tutto è stato approvato salvo però un dettaglio ma questo dettaglio impedisce la pubblicazione infatti in questo momento voi sull'App Store non trovate né Fortnite né l'Epic Store cioè appunto l'App Store alternativo di Epic quindi ci dice quest'articolo di D-Day si attendeva la luce verde per la pubblicazione in Europa di Fortnite e dell'Epic Games Store ma invece ci dovrà attendere ancora perché Apple ha bloccato la pubblicazione per la precisione Apple non ha notarizzato l'app finalizzando quel passaggio necessario per permettere ad Epic di distribuire il suo store tramite web o tramite l'App Store stesso la notarizzazione è quell'ultimo processo che Epic mette in atto per accertarsi di poter pubblicare un App Store di terze parti e loro dicono che viene fatto per controllare che non ci siano problemi di security o di stabilità del sistema di appunto di crash vari eccetera questo dovrebbe essere la definizione diciamo di notarizzazione da quello che dice Apple e insomma scrive Epic su Twitter Apple ha rifiutato la notarizzazione dell'Epic Games Store per ben due volte sostenendo che il design e la posizione del pulsante in stalla del negozio sono troppo simili al pulsante ottieni di Apple e che la nostra etichetta acquisti in app è troppo simile all'etichetta in app purchases dell'App Store ma dice Epic stiamo usando le stesse convenzioni fornite da Apple per i pulsanti install e acquisti in app le stesse che sono utilizzate anche in altri app store su altre piattaforme e stiamo seguendo le convenzioni standard per i pulsanti nelle app iOS quindi Epic super incazzata dice il rifiuto di Apple è arbitrario ostruzionistico è in violazione del DMA e abbiamo condiviso le nostre preoccupazioni con la Commissione Europea peraltro come ci ricorda l'articolo Apple in questi mesi ha spiegato che il processo di notarizzazione non riguarda il design delle app ma si limita a valutare se un'app ha problemi di sicurezza consuma troppe risorse oppure va in crash come vi dicevo ora l'app di Fortnite è già stata approvata da Apple e potrebbe venire distribuita già domani mentre l'elemento al momento bloccato è il Marketplace quindi questo App Store alternativo perché Epic avrebbe firmato l'accordo dove al punto 2.3G si può leggere le applicazioni distribuite tramite un Marketplace alternativo UE o direttamente da web UE quindi solo per l'Unione Europea non devono violare le proprietà intellettuali di Apple o apparire confusamente simili all'App Store o a un prodotto servizio interfaccia applicazione software per computer o tema pubblicitario di Apple ora questo non è una adesso cosa si intende per firmare l'accordo non è che loro hanno dei fogli hanno messo una firma semplicemente quando tu attivi un tuo account developer su Apple devi rispettare questi accordi queste linee guida che Apple ti dà per pubblicare delle app che peraltro cambiano continuamente quindi anche per gli aggiornamenti alle app stesse tu dovresti rivederti tutte le linee guida accettarle e assicurarti che le tue nuove versioni poi siano conforme a queste linee guida insomma lo dico per esperienza è un bel macello e peraltro come avrete sentito sono anche scritte spesso in modo un po' interpretabile non è esattamente chiarissimo che cosa dovrebbe fare un'app per essere conforme a queste linee guida quindi a volte è a discrezione di Apple o dei reviewer di Apple accettare o meno una submission di un'app secondo i criteri del giorno ma insomma questo è una nota mia allora vado avanti con l'articolo che dice secondo Apple lo store di Epic Games non sarebbe affatto simile all'app store di Apple fatta eccezione per un elemento il bottone download che sarebbe totalmente identico nello stile e nei colori nessuna ostruzione quindi secondo Apple se Epic modificasse leggermente il bottone e lo rendesse diverso l'app riceverebbe la luce verde all'istante naturalmente Tim Sweeney il CEO di Apple si è molto lamentato di questa roba ma lui si lamenta da anni naturalmente del comportamento di Apple c'è proprio uno scontro tra queste due aziende se volete sapere la mia non so cosa sta succedendo perché non ho davanti a me la versione beta di questa app per rendermi conto se effettivamente il pulsante download è identico a quello di Ottieni dell'app store e non so se Apple stia facendo le pulci giusto per ritardare di qualche giorno la pubblicazione e qualche giorno per Epic vuol dire potenzialmente centinaia di migliaia di dollari in acquisti e quindi anche questo ritardo favorisce Apple sfavorisce Epic però non so neanche se Epic magari ha volutamente provocatoriamente fatto questo pulsante troppo segno all'app store per vedere fin dove poteva spingersi con questa querelle insomma non lo so effettivamente è un po' ridicola la situazione e io mi diverto a leggere cosa sta succedendo perché sono questi due mega giganti capitalisti che si scontrano uno con l'altro e insomma fanno un po' ridere che sembra che si facciano i dispetti tra di loro come dei ragazzini no fatto sta che comunque alla fine questo app store e Fortnite dovranno arrivare perché altrimenti la Unione Europea gli fa un bucio così ad Apple come minaccia di fargli e qui mi infilo con un altro piccolo aggiornamento che in realtà è di qualche settimana fa questo articolo su The Verge è del 24 giugno quindi un po' di tempo fa ma per dirvi che c'è una una prima vera accusa dall'Unione Europea verso Apple per violazione del DMA e infatti dice questo articolo che le politiche di steering dell'app store violano il DMA appunto il Digital Markets Act che invece dovrebbe incoraggiare appunto la competizione le politiche di steering sarebbero tutte quelle politiche atte a guidare diciamo il comportamento degli utenti verso una direzione o verso l'altra e proseguo la Commissione Europea ha anche aperto una nuova investigazione nel supporto di Apple per app store alternativi includendo il famigerato Core Technology Fee che è quella tassa ulteriore che gli sviluppatori di app store alternativi dovranno pagare a Apple superato un certo numero di download e dice Margrethe Vestager che è proprio quella che guida le politiche competitive nel mercato europeo dice che la loro posizione preliminare è che Apple non permetta questo steering e lo steering è la chiave per permettere agli sviluppatori di app di essere meno dipendenti dai gatekeeper quindi dagli app store dei gatekeeper e quindi permette ai consumatori di essere informati dell'esistenza di offerte migliori alternative quindi in questo caso Apple è la prima azienda essere accusata direttamente di violazione delle regole del DMA e adesso ha tempo per rispondere fino a marzo 2025 e potrebbe essere multata come dicono appunto le regole del DMA fino al 10% del totale dei suoi ricavi mondiali per queste infrazioni che corrispondono secondo i numeri dell'ultimo anno a 38 miliardi di dollari questo poi tra l'altro si alza al 20% per violazioni ripetute quindi insomma questa è un po' la situazione al momento Apple dovrà vedete rispondere ad attacchi su vari fronti e peraltro come avevamo già detto Apple Intelligence tutta quella suite di servizi di IA che dovrebbe arrivare con la nuova versione di iOS beh in Europa non arriverà almeno non arriverà subito perché appunto sono allo studio le possibili implicazioni con il DMA e Apple non vuole certo esporsi a nuove accuse di violazione visto che insomma già sta attraversando questa piccola turbolenza e ora vi voglio dare la notizia frizzante della settimana del mese forse vi ricordate di Silicon Box perché ne avevamo parlato qualche mese fa quando era uscita la notizia che Silicon Box avrebbe aperto una fabbrica di chiplet in Italia e pare che siamo arrivati a quel momento la fabbrica di Silicon Box aprirà a Novara e ci sono anche dichiarazioni roboanti del presidente del Piemonte Cirio che dice il Piemonte la Silicon Valley italiana ma andiamo a leggere l'annuncio era stato dato l'11 marzo Silicon Box start up di Singapore ha deciso di investire 3,2 miliardi di euro in Italia per uno stabilimento nel nord del paese Silicon Box non produce processori nel vero senso del termine ma ha trovato un modo per interconnettere chiplet usando connessioni cortissime massimizzando quindi le prestazioni eliminando colli di bottiglia gli processori vengono prodotti altrove poi i wafer vengono inviati alla fabbrica di Silicon Box che li finalizza tagliando dal wafer i diversi DAI interconnettendoli facendo testing e impacchettandoli adesso non ci addentriamo in questo tanto non è la parte importante quindi questa è la fabbrica per la fase finale di produzione di questi chip ora c'è stata questa conferenza stampa con il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso che poi tra l'altro non capisco cioè il made in Italy quindi non sono solo i prodotti costruiti in Italia creati in Italia da fabbriche italiane ma sono anche prodotti realizzati sul suolo italiano ma da fabbriche straniere non italiane cioè da aziende straniere il made in Italy cioè qualunque cosa tu faccia sul suolo italiano diventa made in Italy è un po' strana sta roba io pensavo che il made in Italy fosse qualcosa l'eccellenza italiana no? cioè fatta con genti insomma l'italica industria vabbè comunque il made in Italy insomma Adolfo Urso poi c'erano i cofondatori di Silicon Box Sehat Saturja e Weili Dai il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Novara Alessandro Canelli questi hanno annunciato che il nuovo grande impianto produttivo sorgerà appunto a Novara sarà il primo impianto di questo tipo in Europa con un investimento totale di 3,2 miliardi di euro ovviamente aspetta l'investimento deve essere ancora approvato dalla commissione quindi vediamo comunque secondo le stime quando sarà a pieno regime l'impianto creerà 1600 nuovi posti di lavoro diretti e secondo il presidente della regione Cirio qua volevo arrivare alla frizzantezza questo è il primo passo per trasformare il Piemonte nella Silicon Valley italiana con la TAV e il terzo valico che saranno completati nei prossimi anni il Piemonte diventerà un nodo cruciale nelle direttrici europee di mobilità e scambio delle merci abbiamo lavorato tanto e creduto in questo progetto che rappresenta il primo passo nella Silicon Valley italiana e bene cari amici io ho voluto cercare e vi vorrei ora sottoporre tutte le volte in cui negli ultimi anni abbiamo trovato una nuova Silicon Valley italiana questi articoli non sono in ordine di data né di importanza ma semplicemente un ordine sparso che vi vorrei sottoporre questo è il Sole 24 Ore la Silicon Valley italiana eccola qua era in Trentino questo è Lab Trentino poi Mashable Italia sembra la Silicon Valley ma è la Puglia quindi Silicon Valley italiana in Puglia visitate la Silicon Valley italiana questo è Manager Italia Milano e la Lombardia Silicon Valley italiana Mesa Value Mesa Consulting possiamo diventare la Silicon Valley italiana Mesa Innovazione Tiscali una regione si candida a diventare la Silicon Valley italiana ecco di chi si tratta la Sicilia la Sicilia Silicon Valley italiana poi c'è qui c'è Ansa al Via a Roma la Silicon Valley italiana poi c'è Media INAF è la Sardegna la Silicon Valley italiana attenzione qui Network Digital 360 Torino la Silicon Valley italiana quindi due punti per il Piemonte in realtà qua è a Torino poi abbiamo Milano Today Milano è la Silicon Valley italiana poi andiamo su Tutti Europa 2030 a Trieste la Silicon Valley italiana su Avvenire a Roma Termini la Silicon Valley italiana due punti per Roma e voglio concludere questo elenco con un articolo del ormai compianto credo Vice perché non ci sarà mai una Silicon Valley italiana grazie allora rapidamente vi do due link uno da provare uno da leggere oggi quello da provare è questo programma che si chiama Lossless Cut che in pratica è una GUI una interfaccia per FFmpeg quindi se volete fare dei tagli rapidi a dei video lossless quindi senza perdere alcuna qualità nel video magari volete togliere dei pezzi trimmarlo quindi renderlo più corto insomma con questa GUI potete sfruttare la potenza di FFmpeg per fare appunto questi tagli veloci è un programma che trovate dovunque sia disponibile FFmpeg quindi Mac Windows Linux dove vi pare e è un open source naturalmente lo trovate su Github come lossless trattino cut secondo me molto interessante e poi visto che abbiamo parlato a lungo di Silicon Valley vi lascio con questo articolo di Stefan Third spero che si lega così che si intitola Silicon Valley's Best Kept Secret Founder Liquidity e questo post è interessante si riferisce a una pratica dei founder delle start-up proprio della Silicon Valley di diciamo prendersi un po' di soldini dai vari round di finanziamento e quindi di accrescere le loro finanze personali man mano che vanno avanti con i finanziamenti poi magari la start-up ecco non va come deve andare però ecco possono lanciarsi nuove avventure perché nel frattempo hanno raccolto un po' di soldini ma insomma ve lo spiega meglio questo articolo quindi vi consiglio di leggervelo Silicon Valley's Best Kept Secret Founder Liquidity lo trovate sul blog di Stefan Third che vi lascerò nella descrizione di questo episodio e ho finito qui grazie per avermi seguito anche oggi anche in questa puntata obiettivamente scarsamente interessante insomma come contenuti però magari qualche momentino di frizzantezza vi è arrivato anche oggi in questo mercoledì e magari vi allieterà anche il resto della settimana quindi grazie ah sto preparando il video sulla Memory Safety mi avete chiesto in tanti sono almeno tre persone quindi quindi lo sto facendo ma in realtà vi ho gabbato perché lo volevo fare lo stesso quindi arriverà non so oggi domani insomma in questi giorni comunque lo lo completerò e lo metterò sul mio canalone YouTube quindi mi raccomando seguite lì che arriva grazie di nuovo alla prossima ciao grazie a tutti